Si chiama Mario Pavone, nato nel 2003 a solo 19 anni e il più giovane insegnante d'Italia. Atriano Doc si è diplomato pochi mesi fa con il massimo di voti nello stesso istituto dove oggi ha preso il posto da insegnante in meccanica e meccatronica. Sì, appunto, fino a tre mesi fa ero uno studente, mentre adesso sono dall'altra parte della cattedra, sono diventato un docente. Questo è stato possibile grazie alla gradatoria libera degli insegnanti tecnici pratici di meccatronica. Essendo diplomato appunto tre mesi fa ho fatto richiesta e l'altro ieri mi hanno chiamato, ho ricevuto la telefonata. Che effetto fa entrare in classe e essere dall'altra parte della cattedra? Fa molto strano perché appunto gli alunni sono quasi miei coetanei, due anni in meno, però fa un effetto molto strano, però è buono, è una cosa molto buona. Il rispetto è la prima cosa, però i ragazzi sono bravi e è molto buono il rapporto. L'indirizzo è stato recentemente istituito presso l'Istituto Zoli per rispondere alle esigenze e alle richieste dell'industria locali. Si tratta di un corso che già di per sé permette al diplomato di avere grandi possibilità di accedere in breve tempo al mondo del lavoro, in quanto tecnico specializzato con importanti profili. Il rapporto invece con gli insegnanti che poco tempo fa erano i suoi professori? Ma il rapporto è sempre stato buono anche l'anno scorso, quindi sono molto contento di avere come colleghi i professori dell'anno scorso, che è un ottimo rapporto e quindi sono molto contento. La nomina del giovane è stata accolta con grande entusiasmo dal sindaco Pier Giorgio Ferretti, che in questi anni si è fortemente impegnato per l'attivazione di nuovi indirizzi scolastici in città, compreso quello in cui il neodocente si è formato. Sì, il sindaco mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti e lo ringrazio anche per questa opportunità che mi ha dato, anche come la preside e tutti i docenti.